Signori abbiamo delle novità, più che novità abbiamo conferme prima di costruzioni, cose di cui abbiamo già parlato sul canale però già solo il fatto che la linea intepresa da Ferrari è ben chiara può farci sperare abbiamo quindi delle immagini da analizzare, perdonatemi se arrivo in ritardo ma volevo raccontare il tutto per bene ho fatto un bel giro di telefonate per cercare di capire un paio di cosucce quindi spero possiate apprezzare e magari anche valutare l'iscrizione tra l'altro prossimamente probabilmente usciranno delle notizie dal mondo Red Bull e Alpine ma andiamo al dunque Paolo Filisetti giornalista per Gazzetta dello Sport in collaborazione con Racing News 365 ci ha sganciato delle ricostruzioni interessanti io poi per essere più preciso aggiungo alle mie considerazioni l'articolo di Formula Passion a cura di Carlo Platella e anche l'analisi di Nicola Castiglione della selezione nazionale piloti che tra l'altro saluto le immagini le avrete sicuramente già viste in giro per il web sono queste qui una Ferrari più snella messa a confronto con la vecchia F175 abbiamo un confronto dall'alto e un confronto anche a lato sono delle immagini queste che raccontano un casino di cose e forse c'è anche dell'incoerenza ma dopo vi spiego perché lo penso primissima considerazione la Ferrari 675 per forza per conformazione delle pance rispetto alla vecchia genera meno deportanza ossia quella forza che tiene la vettura incollata all'asfalto in inglese la downforce però visto che l'obiettivo di Ferrari non è perdere velocità questa viene recuperata in un altro modo e ce lo dice la seconda immagine dove possiamo vedere un deviatore di flusso molto più grande rispetto a quello dello scorso anno mi sto riferendo a questa parte qui sappiate che aspettavo solo questo momento soluzione quindi in stile Red Bull che permette con una minor dimensione delle pance di avere la stessa aderenza al suolo convoiando più aria nel sottovettura tant'è che il disegno del fondo è cambiato in questa parte qui non sappiamo come sarà quest'ultimo sotto la macchina ma con grande probabilità seguendo questa linea avremo dei canali venturi più stretti tornando a noi perché cambiare il design delle pance la risposta dato che la downforce è la stessa è quella di generare meno resistenza all'avanzamento meno drag la deportanza rimane la stessa ma in teoria la Ferrari in rettilineo dovrebbe rendere di più e probabilmente anche qui troviamo una piccola parte di quei 30 cavalli di cui tanto si sta parlando non solo questo ma anche poi il deviatore di flusso più grande e anche utile in vista del riadattamento regolamentare dove ricordiamo la vettura verrà rialzata di 15 mm con maggiore rigidità ai bordi qui però mi permetto di dire ma ricordo a tutti che sono youtuber e quindi la mia parola vale zero e nell'immagine di Paolo Filisetti una cosa non torna la Ferrari 675 la si sta sviluppando seguendo una conformazione atta a sigillare il fondo e la monoposto all'asfalto catturando più aria Ferrari sta lavorando per rendere il pavimento più flessibile in modo da renderlo più vicino al suolo se il fondo deve abbassarsi il più possibile per via del cambio regolamentare in modo tale da sviluppare più velocità perché ci sono i tiranti? non ha senso vanno a limitare il fondo più vicino al suolo non creando l'effetto di gonna pneumatica semplicemente non viene ancorato il fondo al suolo ed è qui che i tempi di realizzazione del video si sono allungati tantissimo essendo Paolo Filisetti un giornalista tecnico e io uno youtuber evidentemente un motivo c'era e quindi torniamo indietro torniamo a mercoledì 14 dicembre la FIA ha annunciato una modifica ai controlli nella parte del pavimento aumentando il carico di 3 volte per definire meglio quanto questa può flettere o almeno quanto flette questo controllo viene fatto con uno scanner e qualora si dovesse andare si dovesse eccedere gli 8 mm si rischia la squalifica e evidentemente alla FIA non è piaciuta la linea di ricerca di un fondo molto flessibile e i tiranti lì potrebbero starci a dirci che la Ferrari ha o aveva trovato il modo di buttare il fondo il più giù possibile Ferrari quindi attualmente ma vi posso anche dire gli altri team avrebbero trovato 7 mm e si starebbe cercando il modo di aumentare questa soglia ne parlavo sempre con Nico una soluzione forse in linea ipotetica potrebbe essere una sorta di aggancio che ti fa superare i controlli ma che in gara ti permette di far abbassare il fondo maggiormente in stile alla anteriore ma in questa parte della monoposto è un po' più difficile aver trovato una soluzione del genere significa aver trovato qualcosa di grande però da tifoso della rossa un po' ci spero è una supposizione quest'ultimo poi se volete più chiarezza su come funziona questo meccanismo io vi invito a recuperare il primo video sull'anticipazione Ferrari nel dubbio lo spammo se non vi vanno guardate l'importante è che vi iscriviate io ve l'ho detto altra novità estremamente più visibile è la forma della parte finale del cofano motore quella parte il cui compito prevede uno sfogo d'aria ossia questa parte qui nell'immagine la forma è estremamente rigida ma al 90% quest'ultima sarà smussata più corta e più larga proprio come la Red Bull meglio anche per la gestione delle temperature senza che Ferrari porta uno scarico diverso in ogni pista cosa che nel 2022 è accaduta con forme più o meno strette avrà inoltre una coda più snella un incovo al lato più profondo questa parte qui più profonda più marcata tutto per indirizzare meglio i flussi creare deportanza e convoiare tutta l'aria al posteriore si vocifera anche di un ulteriore lavoro al reparto sospensivo il cui sistema è ancora datato 2020 è anche un lavoro importante nella parte di sotto del fondo anzi e vi dirò le modifiche più importanti molto probabilmente saranno proprio sotto la monoposto sempre per colpa della TD39 molto difficilmente si ripresenterà il poor poising l'anno prossimo però allo stesso tempo è anche molto difficile cercare di capire come sarà il sottovettura serviranno i primi incidenti per cercare di vedere al di sotto altra modifica che possiamo notare è un cofano motore molto più basso con un profilo finale più snello mi riferisco a questa parte qui anche la presa d'aria dei radiatori sarà diversa nella F175 questi non sono sfalzati mentre adesso sono molto più in stile Red Bull con la parte inferiore decisamente più sporgente con queste nuove forme si potrebbe anche azzardar nel dire che la barra anti-intrusione verrà spostata leggermente più in alto ma qui si entra troppo nel campo delle speculazioni e quindi è arrivato il momento di salutarvi di iscrivervi al canale di attivare la campanella delle notifiche l'ho detto tre volte se non l'avete fatto questa volta vi ammazzo spero che il video vi sia piaciuto e che si sia capito vi chiedo scuse se a volte sembra un po' presuntuoso cerco soltanto di fare le cose al meglio e se non vi è piaciuto con ciò io vi saluto Instagram e Twitter da Tonio era tutto passo e chiudo